Sicuramente abbiamo fatto una buona gara, ma quello che voglio sottolineare è la mentalità che abbiamo avuto, il voler cercare di giocare con la palla a terra da dietro e penso che questo modo di giocare alla lunga paghi e noi dobbiamo percorrere questo tipo di strada e questo atteggiamento. Poi la vittoria è stata una conseguenza, è importante perché ci dà morale, soprattutto adesso inizio il campionato, più che altro per provare le nostre cose e provare, come ho detto, a giocare da dietro. Ho seguito l'azione che stava per fare gol Nicola e poi seguendo l'azione la palla uscita proprio lì dove ero io, ho stoppato tirato di sinistro e niente, sono entrata, non so come di sinistro per entrare. L'anno scorso ho fatto tre gol, due da lontano, uno ho preso la traversa che poi abbiamo fatto gol e quindi in questi ultimi anni ci sto provando un po' di più e cerco di fare il massimo e punto su anche quel sul tiro come un'arma importante. Mi sono entrato bene, più che altro sviluppavamo molto dall'altra fascia perché avevamo Chiaia che era praticamente un esterno, quindi da quella parte lì erano in superiorità numerica, mentre da questa parte eravamo io e Puccino e non avevamo sbocco davanti, però è una partita di sacrificio, tra virgolette, perché non è che abbiamo giocato tantissime palle, ma siamo contenti del risultato. Sicuramente sotto il punto di vista tattico e tecnico io anche personalmente posso farlo.